e ciao a tutti bella raga oggi siamo in un nuovissimo video e siamo qua a serola e ci abbiamo vicino una pianta di albicocche eccola qua fa delle albicocche così cioè sono enormi ne abbiamo portato a casa quante due e vabbè adesso ne mangeremo una enorme non ci arriva aspetta 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 mazza quanto pesio ci sono arrivato hai visto sono arrivata allora quindi è un pallone c'era matura secondo me ancora no fa sentire ma ce la giochiamo sì secondo me se no dovrà lasciare se lo mangiamo a casa domani dopo domani è proprio matura ora mangiamo ce la giochiamo nell'imborso forse ancora un giorno è male non è però non è ancora maturissimo domani sarebbe stata speciale ma c'è il bigo ma no si è rotto il noccio sono buonissimo è stratosferica ok adesso andiamo a prendere due ciliegie almeno facciamo una merenda di quelle andiamo al supermercato tutto ok poi laggiù in fondo ce n'è rimasta una dopo l'andiamo a vedere nel frutteto nuovo andiamo al supermercato Sì, c'è un'ora. sono strato e sferiche sono buone da vedere sono veramente buonissime guardate che rosso intenso come cammina quindi niente ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like iscrivetevi al canale